Un vero viaggiatore mette in conto che durante il viaggio possono giungere delle complicazioni e lui le accetta di buon grado e le considera parte integrante trasmettendo questo spirito al lettore che si immerge nelle sue narrazioni. La scoperta, il viaggio e i personaggi che lo hanno reso celebre sono stati portatori di sviluppo economico, di conoscenza, di forza creativa, per nuove idee e nuovi progetti. La nostra proposta culturale vuole essere un momento di condivisione della nostra storia. Metteremo a disposizione relatori qualificati per dare voce a uomini e donne del nostro passato per ricordarci che un popolo senza storia non può avere futuro. La nostra proposta culturale vuole essere un momento di condivisione della nostra storia.